Educare alla felicità vuol dire educare a non essere rigidi, quindi evitare il rigidismo, evitare il buonismo, evitare l'irresponsabilità ed evitare la mancanza di trasparenza. Nella puntata precedente abbiamo sottolineato come sia importante combattere oggi un diffuso senso di irresponsabilità e di immaturità, perché senza maturità, senza senso di responsabilità, senza la gioia di affrontare i problemi e le fatiche, quando parlo di gioia non vuol dire l'ingoscienza, no, la gioia, cioè quella forza interiore, quella serenità interiore, quello scatto interiore che ti fa a un certo punto non arretrare dinanzi ai problemi, ma al massimo ti fa fermare, ti fa capire, ti fa chiedere aiuto se è il caso e poi ti fa affrontare piano piano con la propria umanità, con i propri pregi, con i propri difetti, ma con tanta forza e tanto coraggio i problemi e le difficoltà. Perché vedete, oggi ci vuole più coraggio ad essere felici che infelici, perché l'infelicità quando non l'affrontiamo, quando ce la cerchiamo, la subiamo in maniera passiva, ma lottare contro tutto e spesso anche contro tutti, per essere felici, per essere autentici, per essere persone responsabili, per essere persone comprensive, per essere persone dei sì e persone dei no al momento opportuno, imporre, come dire, anche la forza dei principi e della dignità delle persone, imporre, perché oggi vanno imposte purtroppo i valori, perché dico imporre e non proporre? Perché c'è un retaggio culturale, un retaggio sociale, c'è un ambiente che schiaccia i valori, che li oscura, ecco perché lì bisogna imporre, imporre, certamente non con la violenza, ma con la forza della testimonianza, imporre i valori umani, imporre i valori spirituali. Oggi è una fatica e ci vuole coraggio per essere felici, ma è un coraggio che noi cristiani sappiamo che non ci viene da noi, ma se lo chiediamo allo Spirito Santo è un coraggio che ci viene donato ed è un coraggio che ci viene dalla croce e che ci viene anche dall'esempio di tanti santi. Ci vuole più coraggio ad essere felici che ad essere infelici. Educare allora alla terapia della felicità, educare i giovani ma anche gli adulti a comprendere cos'è la vita, a comprendere cos'è la vera vita, cos'è il vero senso della vita. E guardate che noi oggi roviniamo i giovani quando non facciamo vedere loro che la vita è certamente gioia, che la vita è certamente amore, che la vita è certamente dialogo, ma che la vita è anche fatica, è anche sacrificio, è anche impegno, è anche onestà, è anche coraggio, coraggio. Perché, lo ripeto e voglio chiudere con questa frase, ci vuole più coraggio nell'essere felici anziché nell'essere infelici. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!